Un risultato inimmaginabile, frutto di tanto impegno, passione, orgoglio e unità territoriale. Commenta così il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, il grande risultato ottenuto nel contest Borgo dei Borghi. La cittadina valdianese si è infatti aggiudicata alla quinta posizione nella classifica finale del programma di Rai 3, spin-off della trasmissione Chilimangiaro, svelata nella serata andata in onda domenica 31 marzo. Montesano sulla Marcellana, unico candidato per la regione Campania, è arrivato in top 5 e la notizia è stata accolta con tanto entusiasmo in tutto il paese, quasi come una vittoria. Il Borgo valdianese, forte della visibilità ottenuta grazie alla trasmissione di Rai 3, sta già raccogliendo i primi frutti del contest. Nel giorno di Pasquetta, infatti, tanti visitatori provenienti dalla Campania e non solo, si sono recati a Montesano per poter ammirare da vicino tutto ciò che era stato mostrato in tv. La cittadina del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha nettamente migliorato il piazzamento ottenuto lo scorso anno da Cetara, che come unico borgo campano raggiunse il diciottesimo posto, mentre al momento nessuna cittadina della regione Campania ha mai vinto il titolo di Borgo più bello d'Italia. Gli unici, infatti, a salire sul podio furono Castellabate e Conca dei Marini, entrambi terzi nel 2016 e nel 2017. Tra i primi dieci borghi più belli d'Italia, anche Maratea. La città lucana, rappresentante della regione basilicata, ha ottenuto la settima posizione nella classifica finale, mentre a vincere il contest è stato il borgo di Peccioli, in provincia di Pisa.